Buonasera a tutti i nostri telespettatori, ben trovati per una nuova pagina dedicata all'informazione. Faremo il punto della situazione di quanto accaduto oggi, almeno fino a questo momento. Intanto una curiosità che riguarda il nostro direttore che purtroppo ci ha lasciato pochi giorni fa. La scomparsa del nostro direttore, presidente anche della Fondazione Mike di Pistoia, ha creato profondo cordoglio in tutta la provincia di Pistoia, lo abbiamo visto anche dai funerali per esempio, ma non solo in provincia di Pistoia. Sull'ultimo numero del settimanale attiratura nazionale TV Sorrisi e Canzoni, un lettore di Vinci nella rubrica di lettere indirizzate al direttore della Testata, ha segnalato la figura del nostro Luigi Bardelli indicando la scomparsa di un personaggio meritevole a suo parere di una fiction per aver fondato un'importante realtà televisiva toscana e una realtà sociale di sostegno ai disabili. A sua volta il direttore Aldo Vitali ha confessato di non conoscere Bardelli, di essersi comunque informato e di aver scoperto una figura che ha dedicato tutta la vita agli altri per cui meritevole di essere raccontata. Non è sbagliato, ha detto, pensare di raccontare la sua vita con una fiction. È una cosa curiosa che fa piacere dopo quello che è successo purtroppo, però evidentemente se alcuni pensano anche una cosa del genere significa che ha lasciato veramente il segno. I titoli delle principali notizie. Lotto alla violenza di genere con questura di Pistoia e Centro Ascolto Uomini Maltrattanti è stato rinnovato il protocollo Zeus che si propone di fornire percorsi specializzati per le persone che sono state oggetto di ammonimento. Nuovi giochi per il giardino di Barile a Pistoia. Donarli è stata amo Pistoia ed è frutto dell'ultima edizione di Cammin Giocando. A Larciano è stato ricordato il carabiniero ucciso 75 anni fa, Alfonso Ruggero. Il giovane, di origine campane, fu vittima di un agguato, pensate, quando aveva solo 21 anni. 7 eventi, 14 discipline sportive, 23 giorni di gara, a Pesce sono in arrivo gli Special Olympics. La manifestazione sportiva che coinvolge atleti con e senza disabilità in programma dal 23. Ancora un'occasione persa per la Fabo-Aerons-Montegatini che ieri sera, in gara 2 di semifinale play-off, ha comandato il match per lunghi tratti prima di scendere la vittoria ai padroni di casa di Ruvo. Da venerdì la Serie, che è sul 2-0 per i pugliesi, si sposerà in Val di Nievole al Palaterme. Vedremo se la formazione di coach Barzotti riuscirà ad allungarla. Per quanto riguarda lo sport, seguiteci perché ci sono altre notizie interessanti che riguardano la nuova Pistoiesse, per esempio, ma anche l'estra Pistoia. Intanto però la cronaca è stata rinnovata a Pistoia, il protocollo Zeus. Vediamo di cosa si tratta. Questura di Pistoia e CAM, Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze, hanno rinnovato il protocollo Zeus. Relativo agli atti persecutori e alla violenza domestica, L'accordo, sottoscritto dal questore Marco Dalpiazza e per il centro da Alessandra Pounce, si propone di fornire percorsi specializzati per le persone che sono state oggetto di ammonimenti da parte del questore per i propri comportamenti, provvedimenti emesi sia su richiesta della vittima, a seguito del verificarsi di atti persecutori, o anche l'ufficio per episodi di violenza domestica. Un rinnovo è stato ricordato in occasione della firma, che permette di fornire continuità nella presa in carico degli uomini ammoniti e di intercettare quindi le situazioni di violenza quando ancora non sono cronicizzate. Nel 2023, sul territorio della provincia di Pistoia, sono stati accolti 73 uomini e 21 sono stati seguiti nella casa circondariale di Santa Caterina. Circa il 12% di questi è arrivato grazie alla segnalazione della questura. Tra coloro che ammoniti hanno poi contattato il CAM, il 75% è in carico o ha terminato il percorso. Tra il 2021 e il 2023, gli ammonimenti sono stati 65, numeri gradualmente in crescita nel corso degli anni, passati infatti dai 14 del primo, preso in esame, ai 33 dell'ultimo. A conferma dell'efficacia degli ammonimenti, spiega la questura diffondendo questi dati, dei 37 ammoniti per atti persecutori, solo 10 hanno successivamente reiterato la loro condotta e sono stati denunciati dall'autorità giudiziaria in stato di libertà o di arresto. Per quanto riguarda poi gli ammonimenti per violenza domestica, i recidivi sono stati 8 su 28. Gli autori dei fatti che hanno poi generato gli ammonimenti sono in maggioranza uomini 54 volte su 65. Le vittime invece, in 53 casi, sono state donne. La fascia d'età sia degli autori che delle vittime è per la maggior parte dei casi compresa tra i 41 e i 60 anni. La nuova cassa di comunità, una copertura più ampia di medici, la messa in sicurezza statica del presidio Lorenzo Pacini, il potenziamento dell'assistenza domiciliare, l'efficientamento del CUP. Sono queste le principali azioni previste dalla sanità della montagna pistoiese. Tra gli altri progetti figurano poi la realizzazione della struttura di medicina interna, maggiore presenza di specialisti e sviluppo delle disponibilità informatiche e tecnologiche, queste appunto sulla montagna pistoiese. In particolare per la nuova cassa di comunità che sarà creata al Pacini ci sarà un investimento da oltre 1.200.000 euro finanziati col PNRR. Nuovi giochi per il giardino di Barile, frazione alla prima periferia di Pistoia. Il giardino di Barile a Pistoia ha dei nuovi giochi inclusivi e merito dell'associazione Amo Pistoia che ha deciso di comprarli per arricchire l'area verde della prima periferia ovest del capoluogo. Un dono frutto di quanto raccolto nell'ultima edizione di Cammin Giochiamo. La camminata solidale è nata per raccogliere fondi proprio per l'acquisto di giochi senza barriere per i giardini della città. Quando ci è venuto in mente nel 2018 c'erano tanti parchi sforniti di giochi per cui abbiamo pensato subito non solo ai giochi ma a giochi inclusivi che potessero essere utilizzati da qualsiasi ragazzo. Prima di quello di Barile i giochi erano stati sistemati in Piazza della Resistenza e nell'area verde di Monte Oliveto dove anche grazie a quanto raccolto in quest'edizione di Cammin Giochiamo sono stati sistemati due nuovi tavoli da ping pong. Con la terza edizione della Cammin Giochiamo ha scelto un giardino periferico per installare giochi inclusivi e quindi il giardino di Barile con la collaborazione della Proloco si presta magnificamente a questo perché c'è uno spazio tutto dedicato ai più piccoli e a diversamente abili. Questo dono che vuol dire per voi? Vuol dire tanto perché noi abbiamo a cuore il posto e noi siamo molto felici di abitare a Barile come dice sempre Mario e insomma ci fa piacere che la gente conosca questa piccola borgata che secondo noi, vero Mario è una delle campagne, di quei panorami che difficilmente si vedono in giro per Pistoia. I ragazzi che hanno questo spazio che mi ricordo quando ero io bimbetto c'era i campi, si vivevano le cose questo è un posto attrezzato che la Proloco la tiene secondo me anche abbastanza bene e queste iniziative servono al Paese. I vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti questa mattina a Quarrata per soccorrere un ciclista che per cause accidentali durante un allenamento a livello ammatoriale è caduto in un fosso adiacente alla strada. Nell'intervento al fianco dei vigili del fuoco il personale sanitario del 118 una volta recuperato e stabilizzato l'uomo è stato poi portato all'ospedale San Jacopo di Pistoia. Ci spostiamo ancora di poco rispetto a Pistoia perché andiamo nella frazione di Bottegone dove è stata inaugurata una nuova filiale della Banca Alta Toscana. Prego! La Banca Alta Toscana ha inaugurato una nuova filiale sulla statale fiorentina a Bottegone frazione di Pistoia. La sede è disposta su una superficie di oltre 200 metri quadri dispone anche di un ampio parcheggio riservato a clienti ed è situata in una zona di grande visibilità. Avevamo piacere proprio di fare un doppio risultato il nuovo servizio e la visibilità del nuovo servizio. L'inaugurazione di questa filiale vuol significare un messaggio di affetto nei confronti del territorio un messaggio di attenzione attraverso l'allestimento di una sede che è tecnologicamente avanzata condotta da colleghi ovviamente di alta professionalità che possono garantire assistenza continua alla nostra clientela e a quella che mi auguro verrà di nuova. L'istituto che quest'anno festeggerà i 120 anni di vita è lo sviluppo in chiede moderna della Banca di Vignole per poi insediarsi negli anni 80 nei comuni di Agliana, Prato, Montemurlo, Empoli, Lamporecchio e Vinci fino alla fusione con la Banca della Montagna Pistoese Maresca e successivamente con la Banca di Credito Cooperativo di Masiano. Avevamo una filiale un po' datata e abbiamo deciso di investire per favorire i nostri soci e clienti di Bottegone con questa nuova filiale moderna, funzionale realizzata con criteri ecologici che testimonia la vicinanza della Banca alla comunità di Bottegone. Quando possiamo si cerca sempre di mantenere i nostri presidi a servizio dei nostri clienti e soci. Siamo forse la banca più presente nella provincia di Pistoia, una delle sole due banche che hanno sede in provincia di Pistoia e vogliamo fornire un servizio ai nostri soci, soci e clienti sempre più efficiente, moderno perché come sapete ormai la stragrande maggioranza delle operazioni bancarie sono effettuate online ma noi vogliamo essere a servizio di tutti. Marina Lauri è stata confermata alla guida del Galla e Montagna Pennino questo è avvenuto in occasione dell'assemblea della società consortile che si occupa di iniziative per lo sviluppo rurale tra le province di Pistoia e Lucca quindi prosegue questo percorso con al comando Marina Lauri. Parliamo un po' di politica con un altro candidato li stiamo presentando un po' tutti ce ne sono veramente tanti in questi 11 comuni che andranno al rinnovo del consiglio comunale e del sindaco 11 comuni della provincia di Pistoia andiamo a Monsummano e presentiamo il candidato a sindaco dei 5 Stelle Alberto Graziani Alberto Graziani medico con svariate esperienze in ambito sanitario dal pronto soccorso all'emergenza e al servizio nel 118 a bordo dell'elisoccorso a medico di medicina generale residente a Serravalle Pistoiese ma conoscitore del territorio e della realtà di Monsummano Terme è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle il nostro interesse dice Graziani è il progresso e la tutela dei beni pubblici che appartengono a tutti la modalità con cui voglio sostenere la campagna elettorale di dialogo è la base di quello di cui abbiamo bisogno a livello sociale ma torno al luogo a noi alla nostra città nei quartieri abbiamo bisogno di nuovo di poter uscire di poter dialogare di poter recuperare la capacità dialettica per superare i momenti di crisi noi del Movimento 5 Stelle siamo abituati veramente a dialogare con tutti e ad ascoltare l'ascolto e la ricchezza di dialogo diminuiscono la conflittualità sociale, energia e ambiente sono i temi cruciali su cui si basa la politica del Movimento 5 Stelle per i prossimi 5 anni Già su questi tre si può sviluppare anche un percorso economico si può cercare un'autonomia energetica ad esempio partendo dalla geotermia o dalle comunità energetiche vuol dire perseguire l'obiettivo oltre la sola consigliatura disegnare una visione strategica che vada praticamente ad abbassare le bollette ma in un modo reale non in un modo fittizio e estemporaneo per l'immediatezza di un anno E con l'avvicinarsi delle elezioni amministrative che combaciano poi con le elezioni europee 8 e 9 giugno è partita anche la nostra edizione 2024 di articolo 21 dedicata proprio ai dibattiti politici sia per conoscere i vari candidati sia per conoscere quali sono i programmi delle varie liste abbiamo già iniziato per ora proseguiamo il mercoledì il giovedì la prossima settimana martedì e mercoledì con nell'ordine Agliana Pieveannevole poi domani Montale poi la prossima settimana vi aggiorneremo All'Arciano è stato ricordato il carabinare ucciso 75 anni fa aveva solo 21 anni sono trascorsi 75 anni dall'assassino di Alfonso Ruggero giovane carabiniere di origine campane ucciso a soli 21 anni in un agguato nella notte tra il 13 e il 14 maggio 1949 nel Pistoiese ci fu un'estorsione ad anni di una famiglia benestante la famiglia Dami il quale venne minacciata se non portava del denaro avrebbero rapito il figlio piccolo e quindi questi familiari si recarono da carabinieri che organizzarono appunto questo incontro i familiari portarono questi soldi nel punto indicato appunto dai due malviventi e quella sera però anche questi due carabinieri si appostarono per prenderli in fragrante purtroppo la cosa andò male perché all'ordine di fermarsi questi due malviventi spararono e il giovane carabiniere trovò subito la morte l'altro invece fu ferito i due malviventi scapparono il giorno dopo però furono prontamente trovati e uno dei due bel ergastolo e l'altro 36 anni di prigione Ruggero è stato ricordato al Cippo di Larciano con la deposizione dei fiori e un momento di raccoglimento a cui hanno partecipato le forze dell'ordine e le istituzioni e una delegazione dal comune di Maiori in provincia di Salerno città di origine del carabiniere anche se è una cosa triste ci fa piacere ci fa onore che sia stata organizzata questa manifestazione per il 75esimo anniversario della morte del carabiniere ci tenevamo particolarmente infatti abbiamo cercato di portare un po' più persone possibili nonostante gli impegni lavorativi di tutti quindi veramente ci è fatto molto molto piacere essere qui infine l'Associazione Nazionale Carabinieri di Monsumano Terme con una cerimonia ufficiale ha intitolato la sezione all'Alfonso Ruggero a Pescia stanno per arrivare gli special Olympics 7 eventi 14 discipline sportive 23 giorni di gara sono alcuni dei numeri del Play the Games 2024 la manifestazione sportiva che coinvolge atleti con e senza disabilità in programma dal 23 al 26 maggio a Pescia in Piazza Mazzini si svolgerà la cerimonia di apertura la sera di venerdì 24 maggio dove è previsto l'accensione del tripode il Bracere Olimpico Special Olympics io lo definisco un movimento emozionale perché dove arriva un evento Special Olympics cambia un'intera comunità io davvero invito tutti i cittadini le scuole a venire a vedere una gara perché solo osservando con i propri occhi si capisce quanto lo sport sia lo strumento giusto per abbattere pregiudizi e stereotipi sulla disabilità intellettiva un evento che porterà in Valdinievo le circa 800 persone tra atleti accompagnatori addette ai lavori e che coinvolgerà i comuni di Ponte Bugianese Pescia Monti Catini Terme e Monsummano Terme quello che ci auguriamo anzi ci auspichiamo che venga tutta la comunità di Pescia e non solo che venga a rendere onore a questi atleti a questa importante manifestazione ci stiamo organizzando con tutti ci sarà la partecipazione della Lega dei Rioni che scorterà gli atleti tutte le associazioni di volontariato del Comune di Pescia ma poi le attività commerciali con cui abbiamo già fatto l'incontro dovrà essere una Pescia pronta ad accogliere gli atleti le loro famiglie ma tutti i cittadini che vogliono vivere un momento di festa e di riconoscimento a questi ragazzi che hanno bisogno di sostegno e Pescia ancora una volta dimostrerà di essere una comunità inclusiva pronta proprio a sostenere questi ragazzi vediamo cosa ci propone la mostra percorsi dell'anima percorsi dell'anima è la mostra inaugurata nella hall di Villa Cappugia Pistoia attraverso la quale l'Accademia della Chionchina rende omaggio all'artista pistoiese Cristina Palandri professionista di lungo corso le cui opere hanno viaggiato in molte parti del mondo l'anima è riportata nelle mie opere in tre forme quello della casa come rifugio è inteso come casa che può essere anche gabbia o casa però a porta aperte cioè ci può entrare ed uscire però è una fonte delle nostre radici il personaggio è un personaggio che nel tempo io ho iniziato nell'82 da una bambina via via si è trasformata in una presenza sempre più forte in un cammino sempre più proiettato verso che cosa verso qualche cosa di ignoto ma che con gli occhi spesso di un bambino stupisce lo stupore della vita l'altro è la conchiglia la chiocciola più che conchiglia che rappresenta un po' questo cammino questa chiocciolina molto piccola molto insignificante ma che riesce a portare con molta lentezza un percorso lungo della propria esistenza e questo è un po' il succo insomma in poche parole di un percorso che dall'esterno va nella profondità dell'anima è una proposta che ho fatto volentieri perché nel contesto della cultura artistica toscana e anche italiana direi che è un segnale di particolare diricità legato al racconto con la componente simbolica della casa dove il cielo ha poi un'importanza fondamentale legata immagino al sogno e alla favola nei giorni scorsi c'è stata una grande festa a Bonelle per i 30 anni di attività della parrucchiera Michela Bonelle ha festeggiato i 30 anni di attività della parrucchiera Michela per l'occasione strada chiusa sono state tante le iniziative della giornata sfilate moda costume moda elegante esibizioni di cantanti e a rendere la festa anche un appuntamento sociale e la presenza di uno stand dell'associazione italiana le cemie una numerosa platea ha applaudito le esibizioni e Michela per il traguardo raggiunto Michela ha iniziato da piccola a prendere passione per quest'arte facendo la ragazza di bottiga per poi continuare con vari studi e corsi di aggiornamento che l'hanno portata ad aprire l'attività nel lontano 1994 è sempre stata Bonelle ed è stata una parte integrante di tante famiglie rendendo belle le loro immagini la sua clientela si è stesa anche in città sono tante le persone che raggiungono Bonelle per un trattamento fatto da Michela si è sempre tenuta al passo con la moda ha fatto un percorso da insegnante alle Canarie preparando anche sfilate di moda con aziende italiane di prodotti professionali per capelli ha collaborato con lo staff di Miss Italia facendo le tappe di selezione in diverse zone della Toscana ha pettinato Rachele e Risaliti Miss Italia nel 2016 e continua ad essere sempre attiva pronta a nuovi lanci moda capelli ho voluto intensamente dedicare questa festa al paese a tutti i miei amici commercianti al paese intero che ci lavoro veramente da veramente 30 anni intensi con gioia soddisfazione ho visto crescere e passare gli anni ai miei clienti e sono soddisfatta di poter dedicare una festa così al paese nella bellezza e nella moda che è una cosa che piace sempre a tutti e auguro di poter passare sempre dei momenti gioiosi così in compagnia delle persone più vicine che vivo quotidianamente e settimanalmente Oggi c'è stato un grave lutto per la comunità Alto Pascese è un vero e proprio colpo al cuore nelle prime ore di questo mercoledì infatti in seguito ad una grave malattia varie complicazioni è scomparso Guido Bassetti 72 anni titolare della loggia la storica spaghetteria al centro del paese Guido che abitava tra l'altro a Chiesina Ozanese era conosciuto da tutti grazie alla sua straordinaria disponibilità e cortesia una persona genuina positiva di compagnia un gran lavoratore sempre pronto ad ascoltarti a darti una mano ci mancherà immensamente si legge in una nota del centro commerciale naturale Alto Pascio non sarà più la stessa senza di te Guido Bassetti lascia la moglie Antonella il figlio Alessandro tre fratelli a tutti loro va al cordoglio di tutta TVL il mio abbraccio personale ci fermiamo per pochi istanti c'è la pagina sportiva e poi torniamo per le ultime notizie a tutti a tutti Grazie a tutti.